Ore 3 del mattino, di domenica, per le braccianti agricole e un giorno come gli altri. Siamo a Grottaglie, il capolinea per furgoni e pullman dei caporali. Qui le donne arrivano dai paesi vicini e anche dalla provincia di Brindisi. Testa bassa e bocche cucite. Capiscono subito il perché delle riprese e tacciono, oppure mentono. È tutto regolare, siamo assunte e prendiamo 52 euro al giorno. Non dicono però che lavorano 9 ore sotto il sole, tempo di viaggio escluso, anziché 6 ore e 30. Soprattutto non dicono che ogni giorno devono lasciare 10 euro al capolare per rimanere nel giro. Altri 5 euro li trattiene l'azienda, sempre per il caporale. Insomma, la paga netta si riduce a 30 euro, ma la busta paga è incontestabile. Qualcuna in un bar si lascia sfuggire, o moriamo di fame o di infarto, non abbiamo alternative. 30 euro per una giornata che dura dalle 12 alle 15 ore, specialmente in questo periodo perché si va a lavorare lontano nel nord barese a tagliare l'uva. Le donne, ma c'è anche qualche uomo, vengono reclutate direttamente dai caporali, che a volte sono travestiti da agenzie interinali. A Grottaglie qualcuno dispone di 20 pullman in cassa a nero, 1500 euro al giorno. Un fenomeno mafioso difficile da contrastare. Sante Bernalda, segretario Flai CGL di Taranto. Si tratta di una vera e propria organizzazione malavitosa a tutti gli effetti, organizzazione criminale che è dedita allo sfruttamento delle persone, allo sfruttamento delle braccia.